Se dovessimo dare una definizione di Nazareno Zacconi, chitarrista di Appignano, una possibile sarebbe musicista completo. Comincia a suonare a nove anni per affrontare poi nel tempo tutti i possibili generi e stili. Dalla classica rock, dal jazz al finger, Zacconi si trova perfettamente a suo agio sia con l'elettrica che con l'acustica. E le produzioni musicali rispecchiano questa sua politicità. Rock rock nel 2006, Volto della Terra nel 2010 e Acustico nel 2012. La musica è vita tanto quanto la vita è musica dice e così dalle sue composizioni escono i principali temi di ispirazione, viaggi, incontri, gente e emozioni. Dopo il primo periodo rock sui modelli classici, Enrix, Clapton, Santana, Zacconi si avvicina alla chitarra acustica stimolato dall'ascolto di autori come Franco Murone, Pietro Nobile e Paolo Giordano. Il cd acustico è il risultato della sua ricerca. Una ricerca che fonde elementi della tradizione con le nuove tecniche di esecuzione. Una pennellata di suoni che tradisce il suo antico amore per la pittura. Grazie. Grazie.